Oggi in questo video andremo a parlare di un cappuccio molto particolare. Io sono Filippo Molina e questo è MyScoopagiusTV. Oggi il protagonista del nostro video è un cappuccio, K01, un prodotto completamente studiato, progettato, confezionato da un'azienda 100% italiana. Il materiale di cui è composto è neoprene, un neoprene veramente morbido ma soprattutto molto caldo. Il neoprene unito al suo design gli consente di essere completamente adattabile praticamente a qualunque forma della testa. Sono presenti due cuciture all'esterno che servono per confezionarlo ma queste cuciture sono praticamente assenti all'interno e quindi non vi è alcuna sensazione fastidiosa sulla pelle del subacqueo. In cima sono presenti due piccoli forellini, la loro funzione è quella di ventilare l'area in eccesso che potrebbe intrufolarsi quando ad esempio andiamo a svuotare la maschera. All'esterno il neoprene si presenta ruvido, come giusto che sia, ma all'interno il produttore ha scelto di rendere il neoprene completamente liscio. Questa nota caratteristica serve per adattarsi perfettamente alla testa e al viso del subacqueo e quindi non vi è possibilità che l'acqua fredda possa entrare all'interno. Ho avuto modo di testare questo prodotto in acqua, devo dire che la sensazione è stata eccellente. Sembra quasi di non avere nemmeno il cappuccio in testa ma la cosa più importante è che la sensazione di freddo è praticamente assente grazie a questo cappuccio. È possibile ordinare, acquistare ovviamente questo cappuccio ma la cosa ancora più bella è che lo si può personalizzare. È possibile scegliere la livrea esterna, la colorazione delle cuciture, il colore del logo ma soprattutto è anche possibile personalizzarlo come più ci piace attraverso dei disegni oppure delle scritte. Ecco qui illustrate le caratteristiche di un cappuccio veramente fantastico. Troverete tantissime altre informazioni nel sito che appare adesso in sovraimpressione. Da MyScoopNewsTV arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti.